Salve a tutti amici di TechDifferent, impossibile non passare da Joni, ecco qua il nuovo prodotto eLife S7 un prodotto che si distingue per la sua estrema sottigliezza, davvero un prodotto molto molto bello, molto molto piacevole da tenere in mano 5.2 pollici full HD per il display, trattasi di un prodotto super AMOLED che quindi va a deviare un pochino i colori tende ad enfatizzarli davvero moltissimo e angoli di visuale molto molto buoni processore Mediatek 64 bit octa core con clock fissato per tutti gli 8 core a 1.7 GHz davvero tantissima tantissima potenza 2750 mAh di batteria quindi una batteria che dovrebbe riuscire a garantire un'ottima durata anche con una potenza di questo tipo spessore davvero sottilissimo dicevamo, 5.5 mm, 13 megapixel di fotocamera posteriore con autofocus e flash led particolarità che la fotocamera non è sporgente cam anteriore da 8 megapixel sistema operativo Android 5.0 e purtroppo prezzo di 399 euro in Europa quindi non sappiamo ancora se e quando arriverà ufficialmente in Italia però sappiamo che in Europa comunque una capatina la farà passiamo a vedere la colorazione nera sempre lo stesso prodotto ma classico dopo il bianco e qua subito qua di fianco abbiamo la colorazione azzurra che è davvero davvero molto particolare e assolutamente secondo me la più piacevole da avere materiali interessanti per quanto riguarda i bordi inferiormente speaker carica della batteria e superiore nulla tasti volume e accensione blocco sblocco del device sul lato destro pulitissimo anzi con la porta per la micro sim sul lato sinistro direi che per questa rapidissima anteprima del journey e life s7 può essere tutto vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima da take different ciao a tutti